al contino a registrarlo cosa colla scopo di fai tu puoi e tu eeeh spotify dici che sotto domanda e tu e tu non rimanono a rimanere ferma ancora scusa ho fatto il coltello incadescente semmai il coltello di cosa come si chiama ma il coltello di sopnautica quello che cucina su ma che partita la musica musica da minaccia mi dice che sotto la villa sono su the island daaa e si è chiusa la porta in faccia salve ecco brava oh grazie come ci parla? strozzo muori no un altro corrido di noi strozza muori muori strozzo muori 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 com'è che fa a suonare la macchina senza batteria? ma che cazzo ma sento di colpi lui nulla in questa nave di fattori in questa nave di fattori strozzo eccoli ah vedi ho toccato quello che sta compiando la piccata mamma ho freddo l'aereo seo vettami però che sto per dire chiunque sente la mia ragazza che canta ma tanto ho messo mutuo alla chat quindi sentono soltanto me che parlo cormac sparato ah pensavo l'ho insulinato paio oddio dai chi c'è la sotto e mo vabbè il tizio lo posso portare qua avanti e indietro sulla sua scaricata ma vado per superare il cancello chiuso che cos'è quello? camminatore mamma bomba porca troia oddio quello muori camminatore elettrico pure di qua gigantomon gigantomon in mezzo bravo lì 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 scarica elettrica stronzo ciuccio porca troia ma cosa sta colpire mamma ma io sei scemo ma la scarica elettrica non più la fin che cazzo è uscito da lì n'altro? eh vabbè 8000 persone mamma mia mamma mamma penso di sì ma cos'è che dove t'ho segnalato io mamma 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 aiuto aiuto ho non è è una cosa ma non è un'altra cosa che cazzo ho preso? non si riconosce cosa che ho preso? che ho preso? ho preso ho preso la BABBA se non ho preso appone qui dove sono? il posto ci sono già stato? si ci sono già stato mi dice che è porta chiusa trova un fusibile per aprirla ah pure e ti faccio così? aiuto mamma BABOOM vediamo come Beverly Hills sta guardando no giusto controlla se Michael è a casa e tanto mi abita qua dietro e tanto mi abita qua dietro eh ma non mi danno il tempo di leggere però che cazzo ma che è dietro della notte ma il giorno ah stupidi capi la scatola che cazzo che cosa che ho preso però l'altizio non ho visto che sono passato lì ma ti sei di un po' pure da spargo su delle scarpe più fasi per le persone devo trovare Michael prima che adottere una altra Beverly Hills bello quindi che devo visitare ora qua? allora abbiamo una casa sul fianco questa casa qui questa questa oh le madroi molto evita o ma? e se ce la facciamo anche il numero che sta sotto è di qua per te per te io mi oh portalo ma che c'era? ok sticca lame aerosol no niente no tubo d'acciaio ho detto niente e non fare come Doug cos'è? ah ma è un camminatore per perchè? e se a chi le lauro sicuro chi cazzo è? non posso odiare una persona se non so chi è il cantante che cazzo è tuoi? anche Max Pextale è un italiano ma non odio non odio non lo odio non mi piace scusa no capito io sono pochi sono pochi gli italiani che mi piacciono che mi piacciono le canzoni che fanno praticamente cioè non tutti mi fanno schifo pietro per lui è italiano eh 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 da parlare di qualcuno inglese giovanotti è italiano eh ma fa un po' adesso è un po' senso eh allora non fare come tua madre che l'ha inventa stami patti patti i metalli adesso fa come tolava adesso fa come tolava oh ma ci sono le api che si seguono però si ma solo ah ma le posso uccidere non lo sapevo e non muore era questo che buttava le api no perché non è questo ah attenti così ah certo ancora e basta ste api te le a coltello ah certo è fantumabile questo è così non c'è le più stronzi cazzo fa cambio arma e ti spacco le gambe è altumabile dice ma io volevo oh ecco volevo fare quello giusto affanculo stronzo eh quello l'ho ammazzato quella mia mi ammazzato questo molto spada da ufficiale questo la voglio molto meglio ok ecco i cosi di wall vengono in che senso ah no ah posso avviare ok qua c'era quello di del coso lega malame m parlo solo agente chimici c'è un progetto c'è un cazzo allora spero ufficiale livello 8 dici che è meglio di quella lì sicuramente è meglio di questa ha fatto il livello 6 però eh si ricicliamo questa non ne faccio niente fa troppi pochi danni troppi pochi potenziamenti ah non ha i potenziamenti necessari porco giura che cazzo è successo ma sei niente tutto da solo ma è matto bravo amico porta bloccato questi vesti da lontano non mi piace ma hai paura di morire ehm e che magari è bloccato dall'altra qua ma che ne so che ne so io vedo uno zombie mi sa che un corridore quello mi si muove troppo si è un corridore ma vabbè ma che cazzo mamma eh questo qua di in testa la fa culo anche all'occhio gli manca questo oh via la te si vabbè ha capito ma dov'è che escono dalle fogne escono dalle fogne dici che prima o poi gli stacco la testa o eh vabbè ha capito ma guardalo guardalo ma quanti cazzo che ne sono di questi faccio cosi muovi strozzo non vuoi se c'è riguardo merda strozzo no l'altra parte strozzo non c'è la testa lo faccio partire con sta cazzo di accetta l'altro ce n'è camminatore in fiamme eh che cazzo ne so eh io vengono capito si ha minato in fiamme no vabbè ma c'è giro di qua finchè non trovo una boccetta d'acqua cos'è? evocazioni per Italia ah sì ma ma io non ho capito io io ma non c'è un fucile in qualcosa cioè mille poliziotti ma che vanno in giro con un manganello ho sentito rumore tipo tipo di un allarme vabbè catticenta oh l'acqua mmm lo trevi fuori eh vabbè ho capito però non si può fa un cazzo ovviamente la zombie ovunque c'ho la zombie dietro ti lancio l'acqua eh la sua casa ma vi stanno facciamo lo zombie con l'acqua ma scusa io lo zombie in fiamme lo posso spegnere con l'acqua io vado vicino si si stronzo no quello lì però non lo posso e c'è ma com'è che io non posso farla schivata adottami sono tipo no i cosi dei robot o per caso tipo com'è l'altro com'è l'altro quello di no un altro ce l'hai che cazzo 8.000 ce ne stanno di sti zombie così oh mi lo attacci sua si va bene va bene va bene lo stesso ma ho distrutto ma dov'è che escono questi dai tombini io non ho fatto rumore escono dai tombini che è anche a me ne faccio vedere il randello pensavo ci fossero lo sapevo uno mamma dio un'altra volta sta uscito da lì eh scusi ma quello da dove cazzo è uscito non l'ho neanche colpito si ma quando è che gli rompi ah mai da sto punto gli rompio io la testa e vaffanculo cos'è eh ok così posso usare subito ma alve mi accennate un po' tutt'accia comunque alla fine ho visto la puntata di cimini eh ma lo stronzo non faceva lo stronzo soltanto con evieta ma c'è quello lì è proprio l'assista capo mamma mia vabbè se si è un petto piove di qua e poi da dove là ah boh potrebbe esserci qualcosa venato patti metalliche salve montacci su strunzo 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 mori la mascella del fatto questo suono sono io sono io che le scarpe fate che non ha le scarpe ma c'è degli stivalozzi bellissimi 434 c'è un po' di musica forse no? o è il gioco? più tk ma mi sa che c'è tipo rottami ce l'ho già tutti altro beauty case oh migrazione di data oh finalmente c'è qualcuno a me vabbè giustamente se poi la meditazione il guru della meditazione quello della medizione automatica parla con lo zombie lo zombie è molto di chi ascolta ma vabbè bellissimi bellissimi vabbè mannaia questo va bene aspetta ma no se mi ha sbagliato ma io ce la devo al mio livello non a livello c'è il mio livello passato a livello futuro corridore e camminatore di là ci sono andato qua ci son venuto se vado a fare il giro faccio prima io dovrei andare lì però voglio fare un po' il giro sono a furza casma mamma mia quanto mi manca giocare sti cose si penso di si devi essere nella zona di furza casma o cosicino ciccio bene in giù e allora devi uscire di entrare ma che è è GO non la posso cantare perché sennò poi mi mandano per il razzismo a play a play alberry a posto non posso entrare se non apro la porta è già aperta la porta ma non lo sapevo che fosse aperta via ste cazzo di gongola te la stacco la gama ma non la posso chiedere sta cazzo di porta ma comunque chi era aperta comunque fammi cambiare il caos ah cazzo ma c'era quello lì del fuoco potevo buttare quello ma porco giuda mamma mia giulia ok non me ne trovi trovi qua ma ti vedete se non c'è qualcuno che compra il cazzo qua ecco bella per cosa ah boh quello è quello che dico anch'io ogni volta io lo dico mamma cazzo fai vabbè io certe volte no quando metto al massimo non sento poi voglio sento la musica fare le scoriegge e risca adesso si trovo rutter snakes trovo al killer ridge hiking trail to vantage point corridore barcollante camminatore barcollante ok ma non questo che lo amano che si no c'è un corridore sul fianco no non li ho corridori è sempre barcollante io ve li stacco ste cosso di mani e ste cazzo di gambe ma perchè continuano ad arrivare giù ma da dove arrivano oh c'è il killer 1 completato stronzo stronzo colpi infrante di cazzo un altro ce n'è ma da dove cazzo è uscito ma da dove sei uscito madre 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 che il piede è stata è il braccio non so come cazzo ho fatto ma niente qua ce va è il fusibile cos'è tanica di sostanza causa piglia e butta via che è nato non te ne so bagazzi niente devo andare su perché su di qua ci voleva forse qualcosa lì per aprire la si e tira via sto cazzo di di cose ragazzo di gamba di me giusto di migliore qua c'è una casa però prima di vedere questa casa qua vedo cosa c'è c'è da dire salve via la gamba stronza oh no è partita la testa stavo per colpire la valigetta rinforzata parti metalliche oh cazzo ma questi escono dal nulla dalla sabbia in che senso c'è solo questa metraglietta c'è un'altra che si chiama shredder che dovrebbe essere la più forte e come la pistola è fabbricabile senza il deuterium però devi trovare lo schema perché anch'io sto cercando lo schema e non l'ho trovato tra l'altro se non trova da una missione cosa che è strano perché tu hai detto eh ma quella lì della mk2 te la da soltanto con la schema della missione ma non è riuscito a trovare una schema dentro dentro il coso eh sì poi dicono che so io con lo scolato ma perché prendi la tanica di benzina ma tiragliela in faccia ecco è morto con la tanica di benzina quella stacco stacco le gambe oh che cazzo quanta gente c'è no no si è rotta l'arma io ti accetto con la mannaia ma non ci metto tanto penso che la mannaia sia un pochettino un po' più veloce della cosa lì che cazzo è sto qua sono oh non ho aspettato a colpirlo oh ma signora ma quanti cazzo siete oh eccolo oh mutilato mutilato io ho spaccato io ho spaccato la faccia non capisco che sono tante di benzina così oh 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 questa la togliamo da qui vero? stronza messa mi sceltavo pure io questo ecco oh no questo no lui è ste cazzo di api mosche che cazzo che so sto sciame si perché c'è lo zombie con le liberate dentro l'addome cioè che cazzo non bastava su fallout no lo con l'alveare su oh che bello quanto sono felice cioè felice oddio non tanto perché poi comunque io settimana prossima con lavoro però almeno c'è un po' di di riposino diciamo si può si è quello mamma soltanto no quelle claudio qua c'è qualcosa cazzo cazzo ma senti mi culo un attimo che sulla qua è un casino ma si può entrare qua si sto cazzo si può entrare no non te li cura dovevi essere una torcia attiva ma non ti può vedere da qualche parte se hai una torcia attiva ti lampichi ti lampichi sto cazzo la lampichi si si quella cosa che fa più paura loro cazzo non le porte perché tu magari dici oh sto al sicuro oh che cazzo questo apriere i voti allora io posso andare alla casa di sotto quello che avevo prima tanto devo andare qui faccio il giro c'è qualcosa qua c'è scritto oh sto ah si nel quello lì capito 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 nella biosfera che li fa vedere sia dentro che fuori ma perché qui si escono dalla sabbia ma chi cazzo siete a morire escono dal terriccio neanche guarda come facciamo il mio cugino Nando sei in o out so out no sei in ma l'ho uccisa questa sì l'ho un po' inquinata di benzina proprio ah comunque scoprendo che su sto gioco ci sono le armi da fuoco ma almeno quello che cazzo oh ma sto zombie ma gli cazzo ma fate Harry Potter si è sbattializzato davanti l'ho visto proprio crearsi ma che cazzo ma si è creato ah questo è come quelle cose che abbiamo atteso niente alla prima vedo sta casa qua ma se si può si entra si esce ma lei signora dove è passata scusi ma posso entrare qua? questo cazzo posso entrare? posso entrare? allora ti ho esplorabile e spero che dentro si vede tutto però non posso entrare un po' niente non c'è un cazzo se non mi fa entrare certe volte certe volte di fa entrare certe volte no ripostiglio ripostiglio riposita le armi si c'è qualcosa qui per forza però non mi fa entrare adesso qua non ho capito come cazzo si fa entrare posso andare a casa davanti posso mettere tipo una specie di no mi sei disponibile dove? non mi dice dove oh Michael dove sei Michael domani lavora oh tio da quello domani lavora Lucia è uscito il suo giorno non è oggi ma è comunque venuta tanta gente oggi hanno fatto anche la le gui c'era nel mattino? hanno fatto anche la guida turistica gli hanno fatto alcuni quindi sono sono venuti qua sono venuti lì ecco viva le bestienne eh non laghi ma cazzo è questo? devo fare il colpo deve stare le mani le gambe tutto che è stato e vaffanculo si sta rompendo tutto la spada non fa danno però niente comunque un po' un attimino c'è un cazzo no? ah la tua roba non lo so il tuo non è un colpicino ti rimane soltanto lo zainetto si oh che cazzo ma che cazzo è successo? un colpo 400 di vita è scioltato un colpo 400 di vita mi ha scioltato questo ormai che ti nasco qui un pezzo di merda che livello è? ma perché ce n'è uno? perché ce n'è uno così? eh mica con un colpo the shot a livello 8 milioni ma come faccio? non ti vediamo un attimo ma di più scusate alla rinascente ti devi morire eh vabbè ho capito ma parlo questo è sciolta non è che comunque possiamo morire all'infinito quanto capito non ho delle vite a pescini a chiedere cioè non riesco davvero avanti alve io vabbè non gli faccio un cazzo però eh ho notato eh ma come faccio a scappare via da questo mo come se è mezzano lo schifo alve cioè scusa questo è livello 8 ma quello lì livello 8 mila l'ho capito io e questo mi continua a seguire e nel caso che rimani bloccato da qualche parte merda sì se ne è chiaro che ti rimani bloccato da qualche parte ci ho capito ma non gli faccio un cazzo a questo aiuto Kony Kony perché eh ma appunto io ho detto di non andare da soli ma qualcuno non mi ascolta ho capito ho capito ma io laggo ma lo muoio sì 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 se non prendi se non prendi la tua do e se non ti prendi la tua do ma purtroppo quello è ma dove sei morta poi la biosfera è la biosfera alla waylay alla waylay alla waylay la waylay allora mi chiamo ma che cazzo fai a morire lì boh io ho dato che sono andato lì senza armi ci sono andato ho capito ma io sono andato lì senza io sono andato io sono andato io non la biosfera senza armi solo a pugni sono andato lì e comunque sono riuscito a sopravvivere e poi qualcuno e ma tu non definire le capacità degli altri beh morite tutti io vado lì a mani nude fa un po' allora la mannaia ce l'ho 148 questa la smontiamo potenziamenti e ma me la fa far di fuoco e esci aumenta la durata e la forza ma riduce la velocità d'attacco aumenta la velocità d'attacco ma riduce la forza e ma la mi piglio il culo aumenta la velocità di attacco vai facciamo e uno e facciamo la di fuoco che te devo dire ma dove ti ha fatto di fuoco io la vedo normale punto per quando inizia a lavorare eh no ma perché io ho questo io ho quello io ho sto cazzo modifichiamo aumentare la forza colpi in sequenza ok ma mi fa questo qui qualcosa c'è qua destrezza io non ho capito come mai da altri possono schivare il mio personaggio non può schivare aumenta la durata ma riduce la velocità d'attacco aumenta i danni ma riduce la durata equilibrio gli attacchi pesanti che dicono che facciamo questo qua con gli attacchi pesanti modifico un po' le armi qua posto la posso la posso modificare ah beh mi dice livello 6 io so livello 8 130 701 170 180 180 60 questo qua fa schifo come ha però questa è buona codispondenza un attimino potenziamo no ho quel fuoco con impatto equilibrio gli attacchi pesanti civica e il consumo non è una resistenza ok buon fatto questo lo posso fare ne ho 5 sto a capire perché ma perché mi ha buttato a digitare ah perché ho riciclato e non avevo 808 sì fanno quei piedi la mannaia così non l'avevo mai vista sinceramente quindi devo andare avanti a fare delle missioni piantare piantare poi sblocco le varie perché se no non capisco trovo quelli di livello teschio e che devo fare che ti devo dire cos'è volantino del corso di Michael Hollywood career undressed by Michael Anders mentor of the year no ma tu prendi la roba e scappa proprio no piga pugni la roba la lupa eh ma tu corri fino a dove dove sei dove dove andai oh mierda potrebbe essere bledito ora soundtracks sign e non girare più prima cerchi alle chiavi di riserva è quello che sta a cercare ma da fare due punti ma non c'è niente da fare scusate ma roma che hai che vedi di di zara ma ne viego ma ne vedi zara ma Ma sei scemo Un volta più a un colpo Ok Ci sono le costruzioni Eh, è quello allora Ah, io l'ho colpito lui Ma un po' C'è questo Ottanta Ho abbiato la visita Vai a trovare Jesse Eh, ma perché tanto fra un po' dovrebbero Dovrebbero riprendere il loro corso normale Denaro Io sì, dovevo quello che correva Però Sono il dubbio Giusto, dichelo Mo' attaccatevi al batuffolo Ma su Signora, entri Ma scusi un attimo Ma non è normale la cosa Ma scusi un attimo Ma io ero qui Ho fatto entrare Guarda lì Ma dove cazzo sono usciti questi? Cioè, io ero qui Bello tranquillo Un uomo ha aperto la porta Così sono usciti dal terriccio Ma non è normale la cosa Ma non è normale comunque Cioè, avrò la porta e non potevano mai uscire Vabbè Dice che c'è qualcosa a 44 metri Ah, è una cosa fusibile Questo, ma E chi cazzo c'è l'ha il fusibile? Salve, signor Ma che cazzo che l'ha? E mori? Mi colpisci, porca, tre Chi cazzo c'è qua, no? PVE sono giocatori contro il computer PVP e player versus player Non devi aprire qua Buttacci tua Ma perché se ti butto qua sopra Ma guardi, pili fuoco Ecco Oh cazzo Pili fuoco E io più Io ho spawnato tutto Mi chiede la chiave di Faruk Quindi, che cazzo Dico mio Guardi, andava male medie insieme Perché su quelli lì Sono giocatori che Si comprano il server Purtroppo No, no Si, li sono comprati Quello ho fatto Ma guardi Qua il server costa Come i vecchi butterfield Praticamente Tu devi comprati il server Lo affittavi E praticamente Lo potevi mantenere Si vede che Le gente rica Perché per un anno Per un anno di server Costa un botto Cosa fa Spucoso Cos'apre Ma non apre un cazzo Non si apre Si ho capito Ma l'effetto Resident Evil Ma da quando Sì, sì, sì Le patch da moca le hanno rilasciate Ma non fa Ma se invece vado a clicca sopra Ti dice cos'è la patch Ma non È già installata Maria No È così Facevi È bene a dormire Non giochi È bene a dormire E invece Ah Lei guarda come cazzo Si faceva qua Ma in chi Stronzo Becca E tu come cazzo Fai qua Mamma Aiuto Ma esplode Boom Mamma mia Che bocca E questo è ancora vivo Sì, vabbè Ma lei Dato che cazzo Esce Soldato Mai che Mi fa fare La finishing Mamma 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 Ma Mi sta bene La nostra Eh Vabbè Ho capito Ma Sì Ti ho Comunque Cazzo Baffa La batteria In faccia Ti do Stronzo Shot 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 Con la batteria Proprio Ok Allora Qui Sono a posto La posso Entrare Cazzo 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 Se la vedo Frendo Ancora Non ho capito Boh Non capirò Non ho capito Chi Sto uccidendo Ah Ma funziona Boh Intanto Qua io sto Ammassando Gente Non so Chi Sto Ammazzando Ah Magari Davanti Che c'è Il fuoco Può Essere Cazzo Forte Oh Che Troia Prima Prima La fronte Il miglio Salve Mi fa Cazzo Allora Mi serve La batteria Io La butto Dos Se la Trovas Salve Mamma Coppia Che scoppia Ma che cazzo Scoppia Scoppia Mi scoppia Qua Gira Gira No Beh Quello La batteria Non c'è Più Però Ma scusa Io dov'è che Continuo ad Ammazzare Il tizio Il tizio Dentro Ok Vabbè Le teste Ve le faccio Fatti tutte Ma che cazzo Continuo ad essere qui E c'è scritto Di chiedere la batteria E mi chiede la batteria E mi chiede la batteria E mi chiede la batteria E ho buttato poi in mezzo Ma qua non c'è più Ma mi sa di su Ma un modo Su Guarda Eh c'è il generatore Il generatore Scusa Sto cavolo Cosa fa Allora Innanzitutto Chiamo un po' Di tutto Vi chiedo Quanto pareggia Vabbè Perché Dovrei andare Di qua Scusi Ma perché Dovrei Troppo Posso fare così Allora Perché mi faccio Raccolgo E butto Qua Ok Per ammazzare Quello di là Magari Lo porto di qua E boom Ok Ma vediamo un attimino Perché Devo Devo comunque Tirarmelo Dov'è mo' Scompasso Vabbè ma Ma scusi Che ho Di casa Di casa di faruco Poi Boh Non capisco Tanto mi è finito Questo Mo' Non lo so Perché Era per capire Era per capire Come vuoi Come vuoi Non è Tiro di rio Le cose Se guarda Su falla Su falla Su rimanere Mi sopra E esplorare E fare Conti E fare E fare Missioni Sicuramente Per ora Dove si toglierti La corazza Dell'operatore Ma è Prenderti La corazza Dell'esecutore C'è scusa Io sono scappato Dal tizio Hai Dell'operatore Ancora Dell'operatore Ancora Tu va a vedere No Quella del mercenario Si Ma si vede Che c'è Eh E' l'ultima Come cazzo la fai Ti sape il deuterium Deuterium Dell'operatore Dell'operatore Lì No Movede Ah si Dell'operatore Ancora Teleesecutore Il secondo Lo Del mercenario E' l'ultimo E vedi Se ce l'hai Perché sembra Stato che ti scioccano Con due colpi Allora Qui non c'è più un cazzo Devo andare su Un po' Caracca C'è un po' Di dove Questo personaggio Eh dai In altro Ma come fa A vedermi Porca troia In faccia Gli esplosa Se lui non si è fatto Un cazzo Io mi sono fatto male Ma mi dica signore Allora Se io mi sono fatto Un cazzo C'è Lei non si è fatta niente Ma Mi stava quasi a sciopare Che cazzo è Ancora Sti altri Dove è sto Testare Due Due Ce ne sono Ma l'ho preso Ora l'ho preso Corri Sgapo Eh si eh Qui c'è costruzione E peggio Eh Queste cazzo Di api C'è rotta l'arma Qua c'è rotta l'arma Guarda lì Sì però Sì sono solo i nostri Non ci sono Eh punto Sura un po' La mia Dimenterà Imponente Che imponente Oddio Costruirò Quello che devo Costruire Ma non è Che farò Come gli altri Che Ottomila Ottomila Piani Per un palazzo Ma se Io schiaccio Quadrato Ma non Quadrata E non La piglia Niente In serio Quando gli esce Quadrato Su Sparisce Subito Quadrata Perché sono Su disnivello Ehm Penso Di sì Non si sa Non lo so Può essere Manu dice Ma in server Ma qua c'è L'aggiornamento Eh c'è L'aggiornamento Ok ma L'avete già fatto Se no Il gioco non va Online Se non fa Il giornamento Ma dove cazzo Qua Da 76 metri Ehm Qua cosa c'è Eh Zona Frantumatori Eh Io mi faccio i cazzi Non ci vado Non ci vado No Chi ci va Eh vabbè Ho capito Ma questo Il cazzo È uscito Ehi Sui 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 Gita Ti attacchi Carica d'acqua No 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 Non mi serve Oh Che cazzo Cosa Ma 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 La missione Chi l'ha vista Ma Sì Dov'è Ah Cazzo Mica L'avevo vista C'è L'avevo vista C'è L'elettricità Lì Ma Chi l'ha detto Di alzarti Guarda Guarda Le bottiglie rotte Non è che c'è Ma quello morto Oh Cazzo Mh 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 Richiede Interruttore Che è la batteria Praticamente Ma la batteria Cominata No Beh Io Volevo Inizio a fare Dei ponti Anche se Livello base Ma Mh Mh Però Poi Mi sono toccato E' un'umano eh non lo so, può essere, come può essere, come può essere, come però non può quello di questi stanzi che usciva da me si, si, quello si, dove tu potevi caricare anche magari della roba sopra cazzo, ma esploso, è vero, è vero eh vabbè ho provito ma ci sono un botto di si, vabbè, quello, quello ne è un over, ma lo bottino, e siamo su fallout e non su cosa eh, cretino, io, mi schiava, mi schiava i giochi così di singolo c'è la batteria, e va questo, va questo, va questo, va questo qua, c'è una casa, ok, non ha ancora scoperto, mi dice io fino a dove sono arrivato, fino a qua si, sono uscito mamma mia, che schifo, un uomo annodo, che schifo io non mi sono girato, c'ho uno zombie davanti, ma non ce l'ho più ma è da petto o c'hai lo zainetto? eh, ti servirebbe lo zainetto così a meno è più veloce perché può trasportare più peso non fa più un cazzo sta cazzo di onda ok, è morto prima si non ho capito a chi, che sto facendo darlo, però a qualcuno sto facendo talmente da eh, si ma a me, mi dica signore, io qua sto a fare i cosi e almeno vengono gli zombie dal nulla ma che non hai capito un cazzo mori li sta giù mica, ma questo qua è quelli lì tipo che cazzo ci fanno gli zombie così qua, dai ma mi dai gli zombie quelli grossi, ma che cazzo vuol dire, ma cioè, oh, quelli col teschi io incontro, non ho capito perché cioè, in tutti i livelli del mio livello, quello no, deve essere di livello maggiore cioè, deve essere quello col tesco, ma perché? ma come richiede il componente? eh, coltello, se ho messo il coltello di Goddard, ho capito in mano ma se è sicuro non gli faccio un cazzo chi è questo? oddio, un motocicletico sorry zombie, party's over not a zombie, yo is there the pizza? hey, do you have pizza? let me in and find out uh, yeah, well, if I open this door a whole load of zombies might rush in and I'm pretty sure that's a bad thing you got a gate, just close it oh, yeah, well, we're having this big party, right? and some of the guys, not me, we're riding on a gate oh, 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 oh esistemi le cose ma questo ha solo le mutande a destra, no? tu casa? mi praticamente o la madonna che cazzo c'è qua dentro ha pure la musica ma non aiuto e questo a besta musica mi piace c'è una bella solo di chitarra se a poi mamma aiuto e ma doveva esplodere ancora di stronzo ma molti va più che bene o mio dio ovvero se io sto cazzo io profumo di barbecue 10 su 10 e macello ma non è tutto coltello 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 a pure di là c'è il ma